Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video settimanale. Quest'oggi ragazzi andiamo a vedere una recensione di due mazzi di carte molto molto particolari. Questi sono due mazzi di carte che potrebbero essere quasi rinominati come i nuovi standard, come ho scritto nel titolo. Perché? Perché sono due mazzi di carte che hanno facce ed orsi completamente standard, come vedete scatolina davvero semplicissima e hanno il modico costo di 4 euro l'uno. Quindi ciascuno di questi due mazzi costa 4 euro. Se volete acquistarli ragazzi vi lascio in descrizione il link del sito dell'Asso nella Manica dove potete acquistarli. Lui li vende a coppie addirittura e una coppia di due mazzi vi costa solamente 8 euro. Vi ricordo che con il codice SBARD se lo digitate quando andate a fare l'acquista avrete anche il 10% di sconto. Adesso ragazzi andiamo ad analizzare più da vicino ciascuno di questi due mazzi. Mentre vi parlerò del determinato mazzo e del relativo mazzo, anche se più o meno sono identici, cambia solamente il colore quindi descriverò uno ma automaticamente verrà descritto anche l'altro, lascerò scorrere in sottofondo delle clip così da rendere il tutto più fluido e scorrevole. Quindi direi di incominciare dal mazzo azzurro. Il mazzo azzurro come vedete ha una scatolina molto molto semplice come anche l'altra del resto ed è completamente azzurra tranne qui la scritta Bocopo, infatti sono state prodotte dalla Bocopo e qua sotto le classiche scritte che ciascun mazzo di carte possiede. Andiamo però a vedere una volta aperto come si presenta al suo interno. Il dorso ragazzi è questo qua, un dorso davvero semplicissimo di un azzurro che a me piace davvero tanto, è molto molto elegante e ha questa trama in sottofondo dove sono presenti questi piccoli pallini o rombi o rombetti bianchi che costituiscono la trama di sottofondo mentre il bordino è molto molto fine e quindi anche elegante allo stesso tempo. La qualità di questo mazzo ragazzi è davvero una qualità ottima e quindi di conseguenza sono anche per questo associabili a un mazzo di carte standard in quanto hanno un costo bassissimo 4 euro e avendo una buona qualità possono essere utilizzate per allenamento ma anche davanti agli spettatori avendo delle facce come vi ho già detto completamente standard. L'unica cosa che cambia ragazzi come per ogni mazzo di carte è l'asso di picche che in questo caso si presenta in questo modo ok quindi abbiamo il nostro osso di picche diverso mentre gli altri sono uguali e piccoli e all'interno di questo asso di picche abbiamo in basso lo scritto a Bocopo e come asso di picche come design a me piace davvero molto. Un'altra cosa che contraddistingue questo mazzo come del resto praticamente tutti i mazzi di carte sono i due jolly che sono i classici jolly che avevamo nelle vecchie steel o comunque che contraddistinguono i mazzi della Bocopo che sono queste due B una blu e una rossa come potete vedere. Del resto ragazzi non c'è tanto altro da descrivere come avete visto il dorso è questo molto semplice e minimale e le facce sono completamente standard. Il prezzo si aggira intorno ai 4 euro anzi i due mazzi vengono 8 euro quindi esattamente 4 euro e di conseguenza rapporto qualità prezzo secondo me sono davvero ottime anche perché sono una valida alternativa se siete stufi dei soliti colori dei soliti disegni delle solite trame dei mazzi queste possono rappresentare una novità. Ora però andiamo a vedere il mazzo rosso. Come vi avevo detto ragazzi non cambia praticamente niente perché il mazzo rosso ha comunque questa scatolina tutta di colore rosso come potete vedere con la scritta Bocopo e l'unica differenza sarà il dorso che presenterà questo colore questo rosso con sempre questa trama con questi piccoli pallini o rombetti diciamo di colore bianco sul dorso. Anche qui in egual modo all'altro mazzo di carte che vi ho fatto vedere prima l'unica cosa che cambia sono naturalmente i joker e l'asso che si presentano nello stesso modo di prima e il dorso appunto che ha questa colorazione rossa. Per quanto riguarda la qualità ragazzi hanno la stessa identica qualità del mazzo azzurro che abbiamo visto precedentemente e quindi hanno una qualità che secondo me è davvero ottima. Ragazzi se dovessi andare a trovare una particolarità di questo mazzo è che all'interno di ciascuno dei due mazzi vengono fornite due carte speciali che sono queste che non sono carte speciali non sono nient'altro che le carte pubblicitarie che però sul dorso appunto presentano e richiamano quelli che sono i design di alcuni mazzi prodotti da Labocopo. Questo può essere una cosa molto utile e carina perché qua potete rendervi conto di come sono i mazzi e gli altri mazzi della Labocopo che sono stati prodotti e quindi decidere se acquistarli. Per esempio questo mi sembra la trama delle cardistri. Insomma ciascuno di questi dorso rappresenta la trama di un altro dei mazzi della Labocopo e quindi questa può essere un'idea carina sia per collezionare queste carte che non sono niente male ma anche per rendersi conto effettivamente di come rendono dal vivo i mazzi di carte appunto qui rappresentati. Io ragazzi spero che questa recensione vi sia piaciuta e che vi sia stata utile. Come vi ho già detto questi mazzi li associo a dei mazzi standard prima di tutto per il prezzo. 4 euro è un prezzo davvero basso se ne trovano pochi di mazzi che costano così poco e naturalmente presentano delle differenze rispetto ai classici Bicycolo Phoenix. Se magari vi siete stufati di quei mazzi potete almeno provare ad acquistare due di questi uno blu e uno azzurro e uno rosso in modo tale da variare un po' e tanto andrete a spendere all'incirca quanto per un mazzo standard. Quindi vi ricordo un'altra volta che se volete acquistare questi mazzi c'è il link in descrizione e li potete fare tranquillamente dal lasso nella manica che abbiamo detto li vende a coppie e niente potete utilizzare il codice SBARD tutto in piccolo per avere il 10% di sconto sul totale dell'acquisto. Detto tutto ciò ragazzi vi ringrazio per aver visto questo video vi invito a lasciare un bel mi piace che mi fa sempre davvero tantissimo piacere e niente noi ci vediamo alla prossima con un prossimo video. Forse se ho delle clip ora ve le lascio scorrere altrimenti niente ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi! Ciao! 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 Ciao!